Ci sono 40 agenti della Polizia Locale di Padova che hanno chiesto ufficialmente di essere dotati di taser e c'è il Comune che più volte in queste settimane ha dichiarato, anche attraverso l'assessore Diego Bonavina, che prenderà in esame la richiesta, ma che non è poi così favorevole all'uso di questo strumento da parte dei suoi agenti. Posizione ribadita in Consiglio Comunale, anche dal sindaco Sergio Giordani. E ora, sulla vicenda, interviene il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, secondo il quale la decisione spetta all'amministrazione comunale. Una posizione ribadita anche dopo l'episodio di violenza avvenuto al pronto soccorso di Cittadella, dove il responsabile è stato immobilizzato con la pistola elettrica. Il gesto tempestivo dell'arma dei Carabinieri ha consentito anche di evitare più gravi conseguenze. Quello è stato un momento in cui si è reso necessario l'uso del taser, la cui adozione è rimessa alla valutazione naturalmente delle amministrazioni comunali. Quanto alla questione sicurezza, più in generale, specie nella zona della stazione, la tensione è alta e di volta in volta viene deciso settimanalmente a quale livello di intensità effettuare i controlli. La stazione è oggetto di controllo costante e continuo nell'ambito del controllo coordinato del territorio ed è oggetto anche di monitoraggio settimanale nell'ambito delle unioni tecniche di coordinamento che svolgiamo insieme ai responsabili provinciali delle forze dell'Urni, allargate anche al sindaco. Quindi è chiaro che poi facciamo delle valutazioni di volta in volta, diciamo, che possono anche rimodularsi in base al sopravvenire di esigenze particolari. Un dibattito, quello sulla stazione e sul degrado in città, che è anche politico con interrogazioni in Consiglio Comunale e anche in Parlamento, promossa quest'ultima dal senatore Antonio De Poli.